Il busto va a essere un qualcosa di arricchimento, questa opera è stata realizzata con un'economia data da un'altra appalto di circa 16.000 euro, ma chiaramente non ha riguardato solo questo intervento, ma è stata rinnovata e ristrutturata tutta la gradinata di accesso alla parte superiore della villa posta a fianco alla statua della Madonna. Il busto di Giovanni Chiarina, che prima era nascosto, oggi è presente all'ingresso della villa, ha la sua estetica, ha la sua importanza, è posto su un basamento di marmo ben lavorato, c'è una bella scritta che ricorda anche che Giovanni Chiarini era un esploratore e quindi per chi non l'avesse conosciuto o non conosce la sua storia, già quel cenno fa capire tanto. Poi il busto è stato realizzato da Trieste del Grosso, che è stato un illustre cittadino che ha realizzato molte di queste composizioni e sono state collocate qui alla villa. Noi abbiamo anche autorizzato qualche giorno fa la collocazione di un nuovo gruppo statuario prima del monumento ai caduti, adesso quindi inizieranno le opere, è sempre un monumento offerto che noi collochiamo qui nella villa comunale.